Siamo qui con Max Beltrami in qualità di doppio impegno, team manager e pilota. Cosa pensi di questo rally di Monza e quali sono le problematiche nella tua funzione delle due mansioni? Il rally di Monza show ormai è una consuetudine per noi, io sono 15 anni che corro questa gara, è sempre un evento divertente anche per il pubblico e quindi ci siamo sempre presenti. Per quanto riguarda le mie funzioni, pilota mi diverto, team manager, seguire tutti questi piloti, con ognuno dei suoi problemi non è evidentemente facile, ma secondo me conoscendomi è un carattere abbastanza buono, quindi cerco di accondiscendere sempre tutti e di cercare di fare divertire e di dare sempre un mezzo al top e credo che la nostra squadra in questo anno ha dimostrato veramente una professionalità al top. Grazie mille e complimenti per la stagione 2013. Grazie mille.